Questo è solo il primo scalino di un'esperienza che sta solo iniziando. In questi giorni se qualcuno pensa o ha la pretesa di dire faccio un corso di formazione politica vera e proprio, sbaglia, perché non è questo che noi abbiamo immaginato. Abbiamo raccolto, in mezzo a voi ci sono anche alcuni giovani che sono stati qui nella prima edizione di Labbro l'anno scorso, hanno posto una serie di stanze e noi le abbiamo raccolte. Nel costruire il programma di quest'anno abbiamo voluto dedicare a voi alcuni momenti didattici molto precisi. Abbiamo quindi un ambito organizzativo, un ambito sostanzialmente legato alla comunicazione politica e un ambito legato a come utilizzare la rete, quella che voi fate con un'abilità astrologista. Inizia domani con l'apertura Bruno Tabacci che è il nostro riferimento per tutti gli organi istituzionali del partito, oltretutto sapete anche che ha un impegno importante a Milano, quindi fa parte un po' della nostra crescita. La nostra crescita non siete solo voi che siete aumentati, la partecipazione territoriale che è importante, sono nate tante realtà sui territori, cioè il partito da Labbro 2010 a Labbro 2011 è molto cresciuto. Solteremo alcuni leader nazionali, abbiamo sostanzialmente chiesto e partecipano Casini, è venuto anche lo scorso anno che ormai è con noi nella grande esperienza del terzo polo, abbiamo chiesto a Bersani che è la forza politica di opposizione e abbiamo chiesto a Angelina Alfano che ha il gravoso compito di riorganizzare le file del PDL, di essere qui con noi. Vi chiediamo di entrare in questo spirito di amicizia e di collaborazione per evitare anche di rappresentare all'esterno difficoltà che indubbiamente ci sono. Questa non è una festa per ricchi, è una festa di gente semplice, di un partito che ha voluto ricominciare. Noi abbiamo lasciato i nostri lidi sicuri di appartenenza, almeno quando mi riguarda, ho fatto l'esperienza di Centro Città, ho fatto l'esperienza della Margherita, tutti i cantieri da costruire, ho fatto l'esperienza del Partito Democratico, non ho mai rinnegato niente perché ho ritenuto sempre queste iniziative politiche di grande crescita e di grande esperienza e adesso siamo ripartiti e da qualche anno stiamo dedicando il nostro tempo ad Allianza per l'Italia e al terzo polo. Cresciamo insieme, questo è lo spirito per cui in questa chiave, a nome di tutto l'Istitutivo nazionale, in maniera informale, perché ripeto, la festa parte domani e vi saranno rivolte le parole giuste ed adeguate dai nostri leader, io vi do veramente il benvenuto, vi ringrazio e passo.